ciao a tutti oggi prepariamo un gustosissimo secondo l'indivia o insalata belga col gorgonzola e le noci una vera delizia gli do gli ingredienti per due persone ci vorranno 100 grammi di gorgonzola io utilizzo quello piccante che un po più saporito 500 grammi di indivia con salata belga come dicevo prima mezzo bicchiere da liquore di latte parzialmente scremato un cucchiaio abbondante di maizena l'amido di mais 4 noci già sgusciate come spezie se vi piace potete usare del pepe macinato e dell'aglio in polvere e infine il nostro ingrediente segreto procediamo bisogna scottare l'indivia e io la cuocerò nel microonde un 4 minuti 4 5 minuti se volete se preferite la potete cuocere al vapore ecco fatto adesso le tagliamo per il lungo ora sminuzziamo le noci e tagliamo il gorgonzola prepariamo la salsina in una pentola versiamo il bicchierino di latte e 400 cc di acqua aggiungiamo le spezie sempre che vi piacciono e il gorgonzola e foca le polveri dobbiamo fare sciogliere il nostro formaggio in un attimo sarà pronto e mentre il formaggio si scioglie vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto basta cliccare su altro è nella descrizione aggiungiamo le noci a pezzettini e l'ingrediente segreto una bella mescolata e aggiungiamo la maizena e mescoliamo subito attenzione però la maizena dovete metterla quando non è ancora caldo perché sennò vi farà i grumi altrimenti potete scioglierla in pochissima acqua la nostra salsina deve risultare abbastanza cremosa se non lo fosse aggiungete ancora un pochino di maizena deve avere più o meno la consistenza della bechamel non ci rimane che versarla sull'indivia ed eccolo pronto per essere mangiato prima di impiattare però vi svelerò l'ingrediente segreto sono 10 grammi di parmigiano reggiano ed eccolo impiattato è veramente una cosa da leccarsi i gomiti mi raccomando condividete la ricetta con chi ha bisogno di perdere peso ma non vuole fare troppa fatica ciao alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti